The Place Come partecipare The Place è un progetto di respiro comunitario creato da Eros Poeta, promosso dall'Associazione Origin e avviato nel 2021 nel sud-est della Sardegna, grazie anche agli sforzi di diversi amici volontari. Il suo nome significa semplicemente il luogo, così da esprimere anche un sentimento accogliente di libertà creativa, dove possiamo aggiungere ciò che desideriamo. A noi piace intenderlo com'è il luogo del rinnovamento. Il vasto terreno procede lungo il lato destro del fiume, disegnando un cavalluccio marino. Philosophy The Place rappresenta anche un modello di antropizzazione dolce, che ha l'ambizione di realizzare concretamente una forma evoluta di umanesimo. Il progetto unisce il fuoco delle antiche culture sapienziali e spirituali con moderni approcci pragmatici e un uso ponderato e non fanatico di ogni tecnologia. Ulteriori approfondimenti sulla filosofia ispiratrice anche nel Manifesto Bioetico di Eros Poeta. Ruoli in The Place 620.000 metri quadrati in area incontaminata, a meno di mezz'ora da straordinarie spiagge. Il progetto The Place prevede la sinergia tra l'associazione Origin, attiva nel promuovere eventi e collaborazioni, e una cooperativa agrituristica con ruolo operativo. L'accesso a The Place è riservato ai soci di Origin, salvo eventi particolari. Ciò consente di operare con maggiore riservatezza a tutela del benessere di residenti e visitatori. Resident, coloro che vi abitano continuativamente. Guest, visitatori più o meno occasionali. Pioneers, primo gruppo di soci fondatori. Tra i variegati sviluppi futuri, vi sono modelli per comunicazione radio di terra, valuta di scambio locale, protezione patrimoniale mediante Trust Jersey, sistemi free energy e molto altro. Prossimi passi Tutte le misure programmatiche sono state fatte. È venuto il momento di mettersi all'opera. La roadmap prevede Trattativa immobiliare 2021-2023 già eseguita. Pulizia Boschiva, 2024 Recinzione Area Resident, 2024 Predisposizione Mini Farm Area Guest, 2024 Allestimento Area Living Farm, Elten Sol, 2024-2025 Avvio Attività Agropastorale, 2025 Avvio Attività Accoglienza, Eventi, Benessere, 2025 Realizzazione Casette Cueva Resident, 2025-2026 Riqualificazione Borgo Area Resident A chi è rivolto? The Place non è un luogo per tutti. È importante avere un'idea smaliziata della condizione sociale attuale e sapere che cosa si vuole. Da Internet, voglio trovare una nuova dimensione del lavoro e del tempo libero, a contatto con la natura, e diventare parte del gruppo operativo. Mauro S. Vorrei avere un luogo mio in sicurezza e non da sola, dove prendermi del tempo fuori dal rumore, qualora lo sentissi necessario. Adelia Cerco un luogo dove poter fare esperienze reali di me stesso, assieme a persone che sento familiari e spiritualmente affini. Gaetano M. Abbiamo un piccolo capitale e vogliamo una bella casetta con un bel pezzo di terra sana, dove possiamo coltivare il nostro cibo in armonia con le stagioni. Fabio E Giovanna S. Vorrei investire in qualcosa di realmente etico e lungimirante, che possa toccare con mano. Joachino B. Se capitasse qualcosa, vorrei un piano B dove aspettare la fine della tempesta per me e per i miei cari. Young B. Desidero prendere parte a un progetto umano aperto ad anziani e ragazzi, per una vita comunitaria di cooperazione e rispetto, liberi di essere sani mentalmente. Monica R. Ho una roulotte e mi piacerebbe riservarmi un piccolo terreno dove metterla, dentro una comunità di amici affidabili. Rosa G. Abitanti guest Partecipare a The Place è semplice. La modalità meno impegnativa è candidarsi come guest. L'area guest prevede una mini farm con quattro lotti di circa 2500 metri quadrati. In un lotto guest puoi mettere la tua roulotte o camper e allestire un luogo incantevole con ampio terreno coltivabile. Se la tua presenza sarà sporadica, penseremo noi alla custodia e se vuoi, possiamo affittarla per turismo naturalistico e, o, coltivare il tuo orto, dividendo i profitti. E se non hai una roulotte, possiamo procurarne una d'occasione mediante i nostri contatti locali, facendotela trovare già messa a dimora. I guest, al pari dei resident, hanno accesso gratuito a tutte le attività sociali, alle pratiche olistiche, ai prodotti esclusivi della farm, eccetera. Abitanti resident Se invece ti piace l'idea di realizzare una casetta nella natura, divenendo socio della cooperativa agrituristica, avrai il diritto legale di farlo. Ogni resident ottiene il diritto reale d'uso e d'abitazione su grandi porzioni di terreno naturale, dove potrà vivere in totale libertà. Oltre alle casette cueva da noi concepite, potrai proporre una versione che preferisci in accordo alla normativa locale. Ciascun resident deve disporre di spazio vitale in abbondanza, nel rispetto delle progettualità definite dal modello The Place. Ogni abitazione godrà dunque di 3-7 ettari di terreno personale non recintabile. Sono ovviamente previsti i sistemi per l'autonomizzazione energetica e idrica delle abitazioni, che assieme a quella alimentare e sociale, rappresentano un sogno ambizioso per il futuro. Essere pioneers The Place è un progetto multisettoriale. La sua applicazione prevede il ricorso a competenze e risorse molto differenziate, per realizzare un vero e proprio mondo fuori dal mondo. I pionieri del progetto affiancheranno il fondatore sin dalle prossime fasi di pulizia e riqualificazione del fondo. Sono coloro che desiderano investire le proprie risorse economiche e materiali per prendere parte ai processi di governance dell'intero progetto The Place e condividere gli utili derivanti dalle straordinarie attività previste, tra le quali glamping, escursioni, trekking, climbing, attività olistiche, detox, benessere, attività spirituali, mistiche, sciamaniche, attività artigianali, antichi mestieri, agora delle arti, attività sociali, feste in natura, camp e lab per ragazzi, cucina evolutiva, degustazione, frutti rari, tecnologie alternative, sperimentazione e lab pratici. Il gruppo Pioneers sarà composto da massimo 5 amici e non è richiesta necessariamente la presenza come resident. Economia Le attività interne The Place vogliono limitare il più possibile il ricorso al denaro. Per tale motivo sarà data priorità nell'approntare un sistema di valuta interna utilizzabile anche dai visitatori per accedere alle attività. La produzione agricola è prevalentemente destinata ad uso interno e a collaborazioni con altre realtà affini di zona. La partecipazione come guest prevede una quota mensile annuale di affitto per l'uso dei microlotti di circa 1.500 euro l'anno. I Pioneers non sono soggetti al pagamento della quota guest. I resident possono ottenere il loro lotto di svariati ettari per la propria abitazione al costo di circa 10.000 euro più una piccola quota annuale di gestione. Il costo dell'abitazione dipende esclusivamente dal mercato del momento e dalla tipologia e grandezza desiderata. Il nostro staff ha elaborato progetti per ottimizzare costo-qualità. Per diventare Pioneer, scrivici! Il tuo investimento e contributo sarà trasposto in quota nella cooperativa come socio fondatore. Ecco-logia Questa parola è stata abusata tanto da averla resa quasi farsesca. Tuttavia noi desideriamo abbracciarne i principi più autentici che richiedono un approccio consapevole volto all'instaurazione di un rapporto autentico di amicizia con la vita in tutte le sue forme. Per questo il progetto raccoglie professionisti e tecnici esperti in grado di approntare soluzioni pratiche e innovative anche sfruttando oculatamente diverse opportunità contributive attualmente disponibili. L'associazione Origin sta raccogliendo diverse sinergie tra enti pubblici e privati del settore per avviare attività di riqualificazione ecologica e tutela degli equilibri vitali dell'area. Sono previste attività di permacultura, food foresting, semi antichi, apicoltura sperimentale, apeterapia, erbi ufficinali, estratti, essenze, oli, fermentati, laboratori legno, bambù, materiali naturali, ittiocultura, alghe, risorse fluviali, pascolo brado, equitazione. Partecipa! Scrivi a infochiocciolaorigin.org per un colloquio di approfondimento. In questo momento sono ancora disponibili 3 delle 4 mini farm guest e 4 dei 5 lotti resident. Cerchiamo persone straordinarie per un'avventura appassionante che guarda il futuro con rinnovato entusiasmo in un progetto strutturato, serio, non lucrativo, basato su persone e cose reali, non virtuali. Se lo senti nelle tue corde, non perdere questa occasione e scrivici subito per assicurarti la tua parte di The Place. Un mondo fuori dal mondo. The Place. Un mondo fuori dal mondo. Un mondo fuori dal mondo. Grazie a tutti.